Per acquistare i crediti FIFA a basso prezzo andate su fifacoinsland.com Con il codice GRANANAS avete l'8% di sconto YOO! Bella ragazzi, siamo i Granas e siamo qui su FIFA 15 Finalmente il gioco completo e oggi iniziamo una nuova serie Oh, una serie molto innovativa Il rotto di Dishon1 Una serie che non fa nessuno No, vabbè, perché comunque è una serie che ci permette di poter fare tanti video di FIFA E voi non aiutatevi mai perché comunque vi diverterete e tiferete con noi I team GRANAS No, io ho già fatto una stagione per provare il gioco perché non volevo partire di merda con la stagione Cioè, non volevo partire di merda su FIFA Perciò sono già in divisione 9 ma tanto a divisione 10 insomma la superi in 4 partite Quindi non è un problema Random, rapido, bam bam di cose Eccoci qui con la prima partita del Roma Accis Roma Accis ROTTO DIVISION1 Uno Non gli piace Olè, olè, olè Allora, la cosa che caratterizzerà questo ROTTO DIVISION1 siccome noi siamo sempre innovativi in tutto È che non sarà un ROTTO DIVISION1 normale ma faremo un tempo per uno di ogni partita Quindi comunque sarà un ROTTO DIVISION1 cooperativo diciamo Quindi se lui nel primo tempo fa 4 a 0 io devo tentare di recuperare il 4 a 0 Stessa cosa che lui, ma io non farò mai 4 a 0 più potente E se ci riusciamo vorremmo portare un episodio al giorno Perciò faremo una partita a episodio mortacci sua Eh, sì Cioè, dove ho trovato i sordi non si sa Non si sa Però vabbè Comunque noi vorremmo fare un episodio al giorno con una partita sola al giorno Esatto Da affiancare poi ai video che usciranno ogni giorno Quindi se ci riusciamo usciranno due video al giorno sul nostro canale Uno, il pomeriggio, normalmente uno la sera E la sera dovrebbe essere ROTTO DIVISION1 Bam Parte lui col primo tempo e vediamo subito che Rossi c'è DECOL Il grandissimo bronzone Mamma mia Grande Buonaventura Lo vediamo Perché l'abbino si mette in mezzo Eccolo Ibarbo guardate come corre Ibarbo guardate come corre Ibarbo guardate come corre Ibarbo guardate Ibarbo guardate Ibarbo guardate Il negrone guardate Si fa tutto il campo da solo E' allucinante Guardalo Non fermi più Mamma mia Eccolo Eccolo Un a zero per Non so come si chiama la squadra Tipo Roma Acidua Cosa del genere Igrano si stanno subendo Acidua Acidua davvero Sì, però c'è l'illegale questa Vero fategli un antidoglio Subito Pereira Per Morata Morata vuole chiudere l'1-2 Non lo chiude Non fa il tempo Però Licksteiner sull'altra fascia Cioè, è scandaloso rispetto al Barbo E ancora Pereira Rossi 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 Uno, due Rossi carica al sinistro Rossi E dai E dai Vai, vai, vai Oh, che cazzo Mamma mia Questa c'era proprio tutta la concentrazione di Darryl In quest'azione Si vedeva proprio C'era proprio le goccioline I nervi tesi E questo non batte Perché? Chi sono le goccioline? E ora Ogbonna È andato alla bandierina Incredibile Perde palla Bia, bia Balla di pia Menti e sale su la coda Vai Tocca a me Vai così Eh, ho lasciato un po' le mani Vedi quello che puoi fare Si Eh, guarda Guarda Chi da Cioè, chi da Che mosso è? Guardalo Eh, va bene Sì, va bene Porca troia, eh Mi sta a fare così caro Porca Valero Mamma mia Guardatelo Che tanto Guardatelo Che tanto Ma di Aguila Eccolo Eccolo L'ha visto L'ha visto Morata il pazzoletto Il pazzoletto Eccolo Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Che fenomeno Morata Guarda La gola in technology Incredibile È gol È gol È gol Perché non sto sta cazzata È gol Mamma mia Eh sì È chiaramente gol Vai così Mori Morata Ma cosa fungegno Cioè Eh Eh Non va Eh porco due Dai Ma chi è Sì Ma il legato Che ti fai Sì Mamma mia Cioè I barco biabbianino Mamma mia Guarda L'uomo Io dirò un po' per culo Va Flavie Mannalo Mannalo Guardalo Guardalo Perfetto Preciso Che è fuori gioco Ma che è fuori gioco Perfetto 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 1-2 Di precisione Eccolo Troppo lungo Perché li fa così i passaggi Chiotrapano Che balli Bello gugione Bello figo gugo Dai Ma con due Però si Rientra Tirano Mirate Uuuu Sì Mamma mia Mamma mia Così Sì Anzi Precisiamo Fausto Rossi Eh Mamma mia 3-2 Si comincia bene Così Emo non prende gol Però Poi rientra Poi rientra No È grosso il mezzo No Non rientra Eh no E che porca amadosco Che rigore Però c'è che dico che rientra Tranquillo Ho capito ma vada a fermare sto mongoloide Ma che gli da batte Non è quello da Roma No Che è? Ah perché gli ha dato a lui? L'anima degli mortacci Tu e De Kinto Dice che la manazzata Esci perché a me non me esci? Dai Ma che cazzo fai? Eeeh Perché non esci? All'altro riesce a me no Aquilani Carica il destro Troppo piano Però Dio Ci va Ci va Di testa Angolo Si Alla vicina Aquilani Bomber Aquilani Che cazzo Le para tutte Le para tutte Dai palo Che 1-2 Che 1-2 Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Fallo Si Fallo Mamma mia Oddio Oddio Dai Che cazzo Che cazzo Che cross ha fatto Mamma mia Guarda Vecchio trapano Mamma mia Che bello Dai e così Morata Alvaro Morata Lui si che è un bomber Lui si che è un vecchio trapano Oh 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 Spazza E cambia così Vanno a vincere La prima vanno a vincere Buona la prima Per il team Granness Alvaro Morata Dai Guarda così Tutti gli applaudono Noi ci becchiamo Tuomani Con un nuovo episodio Del Raw 2 Division 1 E grazie a tutto Bella Bella Ciao